Nel corso di formazione dedicato alla LIM vedremo innanzitutto cos'è una lavagna interattiva multimediale. Vedremo vale a dire che si tratta di uno strumento per proiettare dei contenuti ed è quindi una superficie disponibile alla didattica multimediale e di conseguenza una periferica per avviare la cosiddetta didattica 2.0. È un punto di partenza più semplice di altri per avviare appunto una didattica multimediale. Come usare la lavagna interattiva multimediale? Ci sono alcuni metodi. La prima, il più semplice, è la modalità proiettore. In questa modalità proiettiamo semplicemente i contenuti di cui disponiamo, che possono essere i pdf dei nostri libri, i nostri contenuti o dei contenuti reperiti online. In questo caso l'interazione minima c'è essenzialmente l'aspetto della multimedialità. Poi la modalità vetro è una modalità intermedia nella quale noi interveniamo attraverso delle sottolineature, per esempio degli appunti su dei documenti in nostro possesso. Un po' come si usava anni fa con degli strumenti che applicavano degli vetri ai libri di testo e si potevano appunto sottolineare determinate parti attraverso dei lucidi. Infine la modalità più interessante è quella autore, nella quale noi costruiamo i contenuti tramite un software apposito ed eventualmente li carichiamo in cloud, vale a dire in degli spazi web dove chiunque può scaricarli oppure dove determinati utenti dietro password possono scaricarli, utenti come colleghi per esempio oppure studenti. Quali sono i vantaggi della LIM? Diciamo che la LIM può rendere le lezioni più accattivanti per via di questa componente multimediale di cui stiamo parlando. Non va enfatizzato questo aspetto perché rendere le lezioni accattivante è il docente, non lo strumento, però indubbiamente la LIM ci mette a disposizione degli strumenti piuttosto efficaci. Un altro vantaggio innegabile è che consente il riuso dei nostri materiali. Con poche modifiche i materiali una volta costruiti o una volta scaricati da internet possono essere modificati e riusati a seconda dei vari contesti. Un altro vantaggio è che molti di questi materiali non devono necessariamente essere costruiti da noi ma sono presenti anche online nelle community di docenti e possono essere facilmente e gratuitamente scaricabili. Un altro aspetto che possiamo ritenere un vantaggio è che la LIM più e meglio di altri strumenti, forse più facilmente di altri strumenti, ci avvia a una didattica multimediale. Nel corso impareremo alcuni aspetti importanti. Per esempio a usare le tre modalità, quelle che abbiamo visto, proiettore, vetro e autore. Impareremo anche a riutilizzare i nostri materiali, quelli che magari possediamo da anni e sono verosimilmente dei pdf o dei powerpoint o magari semplicemente delle immagini o dei file word. Vedremo anche, questo è molto importante, come reperire in rete materiali gratuiti e già pronti o che comunque con qualche modifica, leggera modifica, possono essere da noi riutilizzati e poi vedremo, e questo è l'aspetto più innovativo, quello legato agli ultimi anni, come usare le cosiddette LIM virtuali che non sono altro che siti web che offrono le funzionalità dei software autore e in questo modo, essendo dei siti web, non richiedono altro che un browser e una connessione a internet. In questo modo ci svincoliamo, ci affranchiamo dalla macchina nella quale è installato il software autore e addirittura possiamo utilizzare in certi casi persino i tablet o gli smartphone compatibilmente con le loro dimensioni. Cosa è necessario per un corso sulla LIM? Oltre naturalmente lo strumento e un eventuale tablet per il controllo remoto della LIM, dato che molti software autore lo consentono. Naturalmente un pc, uno più pc, con installato possibilmente il software autore, vale a dire il software che viene venduto a corredo con la LIM oppure anche il software open source che è disponibile online. Poi naturalmente una connessione ad internet, questa si rende utile non tanto per la produzione dei contenuti quanto per la loro condivisione e eventualmente il loro download. Come strumenti online vedremo naturalmente i software autore, quindi Active Inspire per quanto riguarda il mondo Promethean e Notebook Smart per quanto riguarda il mondo Smartboard, visto che queste sono le ditte principali e le community di docenti peraltro più attive. Vedremo quindi il sito Promethean Planet, il Class Flow che è una recente espansione di Promethean che consente appunto l'uso virtuale della LIM in una qualunque macchina connessa a internet anche priva di software autore e poi anche siti che nulla hanno a che fare direttamente con la LIM come SlideShare, Script, Docstock, vale a dire dei repository nei quali noi troviamo dei PDF o dei PowerPoint che però con pochissime modifiche possono essere adattati e divenire strumenti utili per la didattica con la LIM. Per un corso del genere sono normalmente richieste tra le 8 e le 10 ore in base anche alle competenze in ingresso dei docenti e un numero di incontro variabile tra i 3 e i 4 incontri.